Allora, semplice, sincero e onesto, verrai come può fare, assolutamente, qui davanti hai la tre in grado, due messaggi, uno gratuito, uno costoneo, si paga l'uscita e va, questa è business, allora, numero 49, chi è questa donna fortunata, donna numero 49, sei tu la 49, ma sei quella di prima, è il colarino che colpise, come dichiama, entra, è già il secondo messaggio che ricete, terzo, è molto cordeggiato, ciao Ruspa, domani sera a Milano, dai. Allora, signori, non mandati i messaggi a nomi, perché non conta niente, a tutti i nomi che ci facciamo del nome, ci vuole il numero, ragazzi dovete firmarmi quel numero, poi quando ci arriveranno, e non il numero di telefono, se no non vi chiamerà mai nessuno, dovete partire soft, soft, io sono 115, questo è un pompiere di pensione, nel 115, come dichiaravi, Stefano, un vigile del fuoco, adesso cosa fai con la vita? un cazzo, non fa niente, va a pescare, hai pensato, ormai ha spinto già tanti incendi, bene, bene, complimenti, abbiamo avuto ancora, ma stanno arrivando dei primi, che hanno varie di essere buonissimi, io avrei un messaggio per un uomo questa volta, il numero 174.